Bene, ringraziamo il professor Dolce per questo ampio intervento. Io vi presento il prossimo intervento, che è invece di Paolo Bazzurro. Paolo Bazzurro è un ingegnere, un docente di scienze e tecnologie dell'Istituto Universitario degli Studi Superiore di Pisa, ma soprattutto è un esperto di fama internazionale sui temi della pericolosità e del rischio sismico trattati su basi probabilistiche. Paolo ha lavorato a lungo alla Stanford University insieme all'Incorner, quindi al padre dei metodi correnti di elaborazione della pericolosità sismica, ed è vicepresidente del bolo scientifico del progetto GEM Global Earthquake Model. Paolo oggi ci presenta il tema della pericolosità e del rischio sismico in pianura padana. Grazie mille per la presentazione. Io sono veramente un lavoro a Pavia, non a Pisa, però tutto il resto è più o meno accurato. Vi parlerò nella prossima mezz'ora e 40 minuti di pericolosità e rischio sismico e per non andare troppo fuori tema farò riferimenti abbastanza frequenti alla pianura padana, però le mie considerazioni sono di carattere generale. Innanzitutto mi scuso con quelli tra di voi che sono esperti di questi temi. Spero che non troviate alcune delle mie considerazioni troppo banali. La mia presentazione si riferisce soprattutto a coloro che nella pratica professionale di tutti i giorni non trattano di questi temi. e vi assicuro che ho meno di 102 slide di quelle che aveva Mauro prima di me. Però ringrazio anche Mauro perché molte delle mie slide riferiscono a cose che ha detto Mauro prima di me. Pericolosità. Prima di entrare in questo argomento devo dire brevissimamente di cosa si tratta. Ci sono soltanto alcuni passaggi concettuali, magari i dettagli sono complicati, ma concettualmente sono molto semplici. Il primo passaggio è quello della caratterizzazione delle sorgenti sismogenetiche vicino a un sito. Il secondo passaggio è quello di essere in grado di trovare una relazione che ci dica quanto sono frequenti gli eventi generati da ognuna delle sorgenti e qual è la loro magnitudo. Per ognuno di questi eventi considerati il terzo passaggio è quello di essere in grado da un punto di vista probabilistico di stimare l'intensità dello scuotimento al sito. Poi l'ultimo passaggio è puramente matematico e anche molto noioso. Si tratta di ripetere questi calcoli col computer per tutti gli eventi e per tutti i livelli di scuotimento e ognuno ha una probabilità di occorrenza di ordinarli e di ottenere per un'intensità di scuotimento che ci interessa, ad esempio la peak ground acceleration, una curva che ci dica qual è la probabilità di occorrenza in un certo periodo di tempo di diversi livelli di scuotimento. Questo è in poche parole di cosa si tratta quando si parla di pericolosità. Ovviamente, siccome i terremoti avvengono sulle faglie, come ho detto prima, la prima cosa che dobbiamo cercare di fare quando modelliamo con accuratezza la pericolosità è quella di trovare i più dati possibili circa le faglie. Quindi il lavoro di voi geologi è sicuramente molto molto importante per avere una stima accurata della pericolosità sismica. Ovviamente capisco che in certe parti del mondo è molto facile, anch'io che non sono geologo riesco a vedere le faglie, in altri posti come in Val Padana le faglie sono molto difficili da identificare. Ma vediamo che cosa succede nella pericolosità quando uno ha, che dati deve avere per essere in grado di modellare una faglia in modo esplicito. Dobbiamo sapere dov'è esattamente, o su un piano, o una serie di piani, o una superficie, e dobbiamo, come ho detto prima, essere in grado di avere abbastanza dati per stimare qual è la probabilità di occorrenza di eventi, di una magnitudo dalla minima alla massima. Quindi una situazione di questo tipo. Cosa succede quando non abbiamo questo tipo di dati? Ma succede una cosa molto semplice, succede che siamo costretti a buttare la faglia in una zona un pochettino più ampia, quindi spalmarla sul territorio. Quanto la spalmiamo dipende dalle informazioni che abbiamo. Se abbiamo poche informazioni la spalmeremo su una zona molto grande, altrimenti su una zona più limitata. Comunque vedete qui esattamente cosa succede. Se non sappiamo dov'è la faglia, supponiamo che sia in molte parti di questa zona volumetrica e faremo i calcoli per ognuna di queste possibili locazioni. Cosa succede dal punto di vista della pericolosità quando facciamo così? Ovviamente perdiamo risoluzione. Quindi per siti che sono veramente vicino alla faglia, che noi non conosciamo, avremo una sottostima in generale della pericolosità e avremo una leggera sovrastima per i siti che sono più distanti dal luogo della faglia che a noi è sconosciuto. Questo è lo stato della pratica, se non dell'arte, in molte regioni del mondo, inclusa l'Italia. Queste sono le famose aree sismogenetiche della ZS9, degli NGV, che sono la base delle mappe di pericolosità che sono tuttora vigenti. Ovviamente spalmare una faglia in una zona, in un'area sismogenetica, a sismicità uniforme non è strettamente necessario. Ci sono delle altre metodologie che non considerano aree sismogenetiche con un'infermità costante, ma spalmano la sismicità sul territorio, soprattutto vicino agli epicentri dei terremoti storici. Non entrerò in dettagli di questa metodologia. Anche questa ha delle assunzioni a volte arbitrarie che possono cambiare abbastanza il calcolo della pericolosità. L'ho semplicemente menzionato per completezza. È una delle metodologie che sono a disposizione quando non si hanno informazioni dettagliate sulle faglie. Le informazioni dettagliate sulle faglie ci risolvono anche un altro problema, che è annoso nel calcolo della pericolosità, che è quello della stima e della magnitudo massima in una certa regione. Storicamente, quando si avevano pochissime informazioni sulle faglie, si usavano dei metodi abbastanza brutali. Si guardava il catalogo sismico, si guardava la magnitudo massima dei terremoti storici in una certa area, ci si aggiungeva 0.5 e è finita lì. Poi sono cominciati ad usare metodi statistici, che però non hanno nulla a che fare con le dimensioni della faglia stessa, perché per assunzione non si conoscono. Ma nei casi in cui si conoscono le dimensioni, ovviamente si possono usare relazioni fisiche che ci danno una stima di quella che è la magnitudo massima. E sicuramente questa è un'informazione molto importante per il calcolo della pericolosità. Ovviamente nel passato venivano usate, o anche quando si avevano informazioni sulle faglie, arbitrariamente si decideva che una faglia si poteva rompere al massimo fino a metà, questo si parla degli anni Ottanta. Poi questa scelta è stata cambiata e si è deciso che forse si poteva rompere tutta, quindi avere una magnitudo un pochettino più elevata. Ovviamente questa scelta di rompere tutta la faglia può generare delle magnitudo massime assolutamente assurde per faglie molto lunghe, tipo quella di Sant'Andrea. In California allora si è introdotto il concetto della segmentazione, se le faglie sono lunghe, sono segmentate e quindi la magnitudo massima dipende dalla lunghezza del segmento. Il problema è che la natura a volte genera dei terremoti che non si fermano alla fine del segmento, ma continuano a proseguire, in questo caso nel 1906, a rompere tre segmenti per un totale di circa 400 km della faglia di Sant'Andrea. Allora nei calcoli di pericolosità si è assunto, almeno in alcuni casi, la possibilità di avere rotture multisegmento con una certa probabilità che queste occorrono. Quando si parla comunque di magnitudo massima, almeno tra noi dobbiamo renderci conto che non si parla mai di una costante, di un valore costante, ma nelle calcoli pericolosità probabilistici almeno si parla sempre di una distribuzione, quindi quando si dice magnitudo massima, non so, 7.2, poi si usa una distribuzione centrata a 7.2, ma nelle calcoli si considerano anche eventi che hanno magnitudo più alta di 7.2. In natura però si hanno dei casi in cui, più complicati, anche quando, ma ancora più complicati del caso delle faglie con molti segmenti, si hanno casi di terremoti in cui il numero di faglie è maggiore di uno che si rompono. Ad esempio nel caso di magnitudo 7.9 Denali nel 2002, la rottura è partita dalla Susitna Glacier Fault e poi ha interessato circa 300 chilometri della Denali e poi è uscita dalla Denali Fault e è saltata sulla Tocciunda Fault e ha rotto un centinaio di chilometri di quella. Quindi anche questi casi devono essere tenuti in conto nel calcolo della pericolosità, perché se non lo facciamo limitiamo il numero di casi di magnitudo molto alta che mettiamo nel nostro calcolo e quindi potenzialmente possiamo fare degli errori. Questo non è ovviamente l'unico caso, il caso di Lenders nel sud della California ha rotto anch'esso tre faglie adiacenti e anche in Italia in Irpinia nel 1980 ha rotto tre faglie nel giro di 40 secondi. Quindi questa è una complicazione che però, avendo dati da voi geologi dettagliati sulle faglie, possiamo tenere in conto. Ad oggi, che io sappia, l'unico sforzo in questa direzione che è stato fatto a livello mondiale per tenere conto di rotture multifaglia, è questo progetto degli USGS che è ancora non completamente finito, i primi risultati preliminari sono però disponibili, in cui questo è il loro modello di tutte le faglie in California. Quelle verdi sono quelle in cui loro modellano questa rottura multifaglia. L'unico requisito per un terremoto, per saltare da una faglia all'altra, è che le estremità siano al massimo a 5 km di distanza o meno. E l'esempio che vedete qua è un esempio che rompe tre faglie, Sierra Madre, Cocamonga e San Jacinto nel sud della California. Non spaventatevi per questa slide, non c'è bisogno che la leggiate, l'unico messaggio di questa slide è che ovviamente, come avete capito, c'è incertezza in parecchi aspetti di quello che stiamo cercando di modellare, nel luogo delle faglie, nei dati che rappresentano la faglia, nel fatto che il prossimo terremoto possa o no saltare da un segmento all'altro o da una faglia all'altra. La robustezza della metodologia probabilistica per il calcolo della pericolosità ci consente in maniera trasparente di usare una metodologia d'albero logico e quindi di tenere in considerazione tutte le incertezze che sono insite nel problema. E ognuno di questi rami viene pesato a seconda di quella che è la credibilità del modello stesso. Questa opzione non è di solito disponibile disponibile nell'approccio deterministico. Lo dico qua, poi dopo, più avanti, avrò due o tre slide in cui confronterò i due metodi. Lo faccio per un motivo abbastanza semplice che, come avrete notato, in tutto il mondo, ma anche in Italia, c'è una recrudescenza del dibattito sul fatto se l'approccio probabilistico, che è quella la base delle mappe generate di NGV, ha un senso oppure no. Quindi mi sembrava che almeno un paio di slide su questo argomento fossero necessari. Sulla base appunto di questa procedura albero logico, qui volevo farvi vedere un esempio molto semplice, tanto per esemplificare quello che stavo dicendo. In questo caso ho assunto che ci fossero due rami soltanto per quanto riguarda la magnitudo massima delle aree seismogenetiche ZS9, il ramo a cui ho dato più credibilità 0.8 è quello adottato, mentre l'altro 0.2 si assume che la magnitudo massima sia più alta di un'unità rispetto a quella. E quindi generando in modo simulazione di Monte Carlo, quelli che vedete adesso sono i colori che si riferiscono alla magnitudo massima di questi modelli perturbati rispetto all'originale. Fino adesso abbiamo parlato di caratterizzazione della sorgente, sicuramente è importante, come ho detto, è importante per il calcolo della pericolosità, soprattutto nei casi in cui la faglia è molto attiva e in grado di generare eventi di magnitudo alta. Nei casi in cui, ovviamente, questo non avviene, è importante ma a un livello minore rispetto al secondo step della procedura. Come avevamo detto, c'era la caratterizzazione delle faglie, la caratterizzazione della frequenza di occorrenza dei terremoti di diversa magnitudo, ma il terzo step era quello della caratterizzazione dello scuotimento al sito. Come scelgo? Storicamente questa predizione viene fatta in base a dati empirici. Ci sono anche altri metodi che non menziono qui, soprattutto usati in regioni del mondo dove ci sono pochissimi dati, ma per regioni in cui ci sono dati si usano essenzialmente delle equazioni empiriche basate sui dati esistenti. Anche qua c'è da dire una cosa molto importante. Questa predizione purtroppo è affetta da una variabilità molto molto alta. Questo è un caso di un terremoto che è stato registrato da molte stazioni perché gli USGS se lo aspettavano, il terremoto di Parkfield del 2004. E questo è un caso normale, non l'ho preso perché era particolarmente variabile. Come vedete questa linea nera in mezzo, qui abbiamo la distanza dal sito, quella nera è il valore atteso della P-Ground Acceleration e le altre linee sono 1 e 2 standard deviation sopra e sotto e i cerchi non pieni sono su suolo e altri su roccia. Come vedete c'è un fattore di circa 10. E questo appunto non è in particolare per questo particolare evento, ma è vero in generale. Cosa vuol dire questa variabilità? Vuol dire che in generale quando si guarda non soltanto a questo esempio ma a tutti gli altri terremoti registrati molte volte da molte stazioni, circa il 95% delle osservazioni stanno più o meno in questo fattore 3.5 o sopra o sotto al valore atteso. Però ce ne sono il 5% che sono addirittura al di fuori. Oppure, visto in un'altra maniera, quando uno sa la magnitudine, la distanza del sito dall'evento, c'è circa il 20% che la peak ground acceleration sia almeno il doppio di quella registrata. E questo dovrebbe anche suggerire alle persone che subito dopo un terremoto si accorrono e guardano le registrazioni a una particolare stazione e le confrontano con le mappe di pericolosità e vedono una differenza e poi dicono che le mappe di pericolosità devono essere rifatte perché c'è una differenza, sicuramente non sanno che cosa stanno facendo. Perché confrontano cose completamente diverse. Tra le altre cose, le mappe di pericolosità non hanno gli effetti di suolo, mentre le registrazioni, per definizione, hanno gli effetti di suolo al di sotto della stazione. Comunque, queste equazioni di predizione del terremoto purtroppo, anche se sono diventate molto più complicate con il tempo, non ha importanza che capiate esattamente cosa c'è sugli assi di questo grafico, ma la cosa importante qui è l'anno di pubblicazione di moltissimi di questi studi che riportano queste equazioni predittive e questa qui è l'incertezza e l'incertezza è rimasta più o meno la stessa, nonostante che negli anni 70 l'equazione fosse semplicissima e adesso abbia 28 parametri. Quindi l'incertezza rimane. Allora, il problema del... Perché ho fatto tutto questo discorso? Perché c'è un'altra diatriba nel campo della pericolosità. Che cosa vorremmo avere noi per diminuire un mondo ideale? Cosa vorremmo avere per diminuire la variabilità della predizione del terremoto? Ricordiamoci che la pericolosità è calcolata a un sito particolare. Quindi quello che vorremmo avere sarebbero tante registrazioni passate di ogni sito che registra tanti terremoti. In modo che noi possiamo, con questo dataset, calcolare qual è la variabilità ad ogni sito che ha registrato diversi terremoti. Questo, purtroppo, non è possibile. Allora, perché non ci sono date sufficienza? A volte a un sito siamo fortunati se registriamo uno o due terremoti diversi. Quindi il secondo passaggio è quello di usare la maggior parte di dati che sono disponibili per una certa regione. Questa è l'Italia. In questo caso, questo è uno scattergram di magnitudo e distanza che è stato usato da Bindi e Tal per una di queste leggi di attenuazione, che era il nome vecchio di queste equazioni predictive. E la prima cosa che vediamo è che nella zona che ci interessa di più, che è quella vicina a terremoti di alta magnitudo, non abbiamo praticamente dati. Questa qui è la zona in cui c'è il scuotimento molto violente in cui si hanno vittime. Allora, cosa si fa? Alcune, un gruppo di persone pensa che forse sia meglio non affidarsi a dati locali o regionali, però pochi, abbiamo visto che c'erano soltanto 769 registrazioni, ma raggruppare dati che vengono dalle stesse regioni sismotettoniche, quindi regioni attive, ad esempio in questo caso, di tutto il mondo e metterle tutte nello stesso contenitore, e usare quelle per la predizione. Come vediamo, la prima cosa che succede è che adesso abbiamo parecchi dati in questa zona che ci interessa di più e abbiamo circa 16.000 registrazioni di terremoti invece di 769. Quindi c'è un fattore 20 in più di dati. Però queste registrazioni vengono non soltanto da una stessa regione, ma da un'altra, da parecchie simili. Chi ha ragione non si può dire chi ha ragione, ma faccio un esempio molto semplice per spiegare perché ci sono questi due campi diversi di pensiero. Se io ho un dado e non ve lo mostro, lo lancio soltanto quattro volte, quindi pochissimi, terremo il caso riferito a una regione con pochi dati, e vi dico che ha fatto due volte tre, una volta due, una volta quattro, e poi vi chiedo di fare un modello di questo dado, matematico, voi che cosa fate? Ma potreste pensare, io non ho visto quel dado, però ne ho lanciati tanti dadi nella mia vita, faccio un sesto, un sesto, un sesto a tutti e le possibili sei facce. Questa è una possibilità. Se pensate così, allora siete nel campo di quelli che usano dati da tutto il mondo per predire lo scuotimento in Italia. Oppure potreste essere nel secondo campo di quelli che dicono ah, io non l'ho visto, non mi fido, magari è un dado particolare che ha soltanto cinque facce, siccome ho visto due, tre, un due, un quattro, do 40% di probabilità al tre, 20% al due, al quattro, magari 10% all'uno e al cinque, in modo di arrivare al cento per cento, ma sei non viene mai. Se la pensate così, allora vuol dire che siete nel campo di quelli che usano pochi dati, però tutti italiani. Ovviamente, chi ha ragione, questo non si può sapere, lo si saprà soltanto quando avremo molti più dati italiani per capire se l'attenuazione in Italia è diversa da quella in altre regioni. Però, c'è un prezzo da pagare a cui mi riferirò nel slide dopo questa. Un altro problema non è soltanto la mancanza di un enorme dataset di registrazione in Italia, ma è anche, e questo è un problema risolvibile però, il fatto che i metadati che supportano queste registrazioni sono abbastanza insufficienti in Italia. Vediamo in questo caso, ad esempio, almeno nel 2011 magari le cose sono cambiate adesso, ma soltanto una stazione su sette aveva delle informazioni sul shear wave velocity, sulla velocità delle onde di taglio sotto il sito della stazione o un profilo statigrafico. Ovviamente, se ci fossero i fondi e le risorse, sarebbero ben spese per avere una copertura un pochettino più ampia. Qui volevo semplicemente riferirmi a quello che ho detto prima. Qual è il prezzo che paghiamo per usare registrazioni ad esempio da tutto il mondo, anche italiane, ma a diversi siti? Come ho detto prima, in un mondo ideale vorremmo tante registrazioni allo stesso sito di diversi terremoti. Quello che paghiamo è che l'incertezza di queste equazioni predittive è troppo grande. È sovrastimata per il problema per cui le usiamo. Ed è sovrastimata di quanto? È sovrastimata ci sono dati adesso che arrivano dalla California, dalla Taiwan, dal Giappone, tutti i posti dove ci sono tantissimi strumenti di registrazione. Quindi la possibilità di registrare più terremoti allo stesso sito è molto alta, che ci dicono che questa incertezza è troppo alta del 10-15%. Voi mi direte ma la prima cosa è vero anche in Italia? No, non si sa se è vero anche in Italia perché non abbiamo i dati per dirlo. Però se anche fosse il 10-15% non fa una grossa differenza. Ma fa invece o può fare una grossa differenza in alcuni casi. Lasciate perdere esattamente cosa c'è in questo grafico. Qui però soltanto nell'asse delle Y non c'è la probabilità di, in questo caso il tasso di superamento annuale di questa accelerazione spettrale a 5 Hz. Considerate soltanto la curva rossa e la curva nera. La curva rossa è stata ottenuta nel metodo standard, a quello si usano queste equazioni e non si riduce l'incertezza. Mentre in quella nera è stata ridotta del 10%. Se noi andiamo a vedere l'effetto a livelli accelerativi molto alti quindi molto rari che sono quelli che sono importanti per la progettazione di edifici critici come ospedale come centrali nucleari e cose di questo genere il periodo medio di ritorno che nel caso standard era stato stimato di 500 anni invece è quasi raddoppiato quando io ritocco soltanto del 10% quella incertezza. Quindi avere dati che supportino l'uso di queste metodologie anche in Italia sarebbe sicuramente augurabile. a parte un breve accenno prima non ho fatto alcun accenno agli effetti di sito le mappe oggi correnti vigenti in Italia sviluppate dall'INGV sono state sviluppate per un sito praticamente a roccia 800 metri al secondo di velocità delle onde d'Italia che è un sito di riferimento e in modo simile anche gli USGS negli Stati Uniti opera in maniera simile. Qual è il problema? Perché è stata fatta questa scelta e come si usano? Ovviamente per il calcolo della progettazione uno dovrà a valle di queste mappe moltiplicare questi valori su roccia per un certo fattore di amplificazione. Questa è una metodologia corrente purtroppo è una metodologia che dal punto di vista probabilistico non è corretta e dà dei risultati alla superficie che possono anche non essere cautelativi. Quindi sarebbe secondo me augurabile che andassimo nella direzione di includere dentro ai calcoli di pericolosità gli effetti di sito. Ovviamente voi mi direte gli effetti di sito è facile dirlo è difficile farlo. A scala regionale sicuramente ci sono delle informazioni di tipo geologico di tipo microzonazione di tipo ingegneristico indagini geotecniche che potrebbero essere utili per per caratterizzare l'amplificazione del suolo la tipologia del suolo e gli NGV ha già iniziato un database per collezionare questo tipo di informazioni io mi auguro che questo database e altri sforzi tipo questo continuino a succedere nel futuro. Sappiate anche che se non lo fate voi se non lo facciamo noi di includere il suolo nelle carte di pericolosità lo fanno gli altri magari con meno dati e peggio di come potremmo farlo noi. C'è tutta un'industria di modellazione di rischi catastrofali per le compagnie di assicurazione che fanno esattamente questo. Quindi loro usano dei dati che sicuramente sono molto peggiori di quelli che avete voi anzi di solito usano dei metodi basati sulla topografia che sono stati portati avanti dall'USGS quindi si basano soltanto sulla topografia per il calcolo della velocità delle onde di taglio sul terreno. Ovviamente loro usano quella metodologia semplicemente perché non c'è nulla di meglio. quindi a parte correggere il problema tecnico che dicevo prima però daremo un prodotto che sicuramente avrebbe molti utenti. Come avevo promesso un paio di slide su questa digressione su se è meglio usare un'analisi deterministica o probabilistica immagino che avete già capito da che parte io stia però volevo semplicemente dire che tutto quello che dirò nei prossimi tre minuti non si riferisce alla qualità del singolo studio io ho letto degli studi deterministici che erano ottimi e ho letto degli studi probabilistici che erano veramente pessimi tutte le mie considerazioni si riferiscono esclusivamente alla metodologia innanzitutto che cos'è il calcolo deterministico questa è già una buona domanda perché non è che ci siano molti posti in cui questo venga discusso in modo molto chiaro comunque di solito quello che si cerca di fare è di creare quello che gli americani chiamano worst case scenario quindi lo scenario peggiore e vediamo se in effetti è vero come prima cosa si caratterizzano le aree sismogenetiche le sorgenti sismogenetiche come nel caso probabilistico si fanno delle considerazioni di diverso tipo sul punto di vista di sismicità storica o geologica si decide quali sono le magnitudini massime in grado di essere generate da queste sorgenti e le si mette nel posto più vicino al sito questa è l'unica parte deterministica che è sicuramente cautelativa si mettono lì l'ultima parte però non è fortunatamente direi il caso peggiore cioè invece di scegliere tutte le possibili livelli di scuotimento che questi eventi nel sito più vicino possibile al sito invece di prenderli tutti quanti vengono scelti in modo deterministico o il valore atteso abbiamo visto che la probabilità di avere dei valori di scuotimento molto più alti è significativa o il valore dell'ottantaquattresimo percentile quando ho detto prima meno male che non si sceglie il valore più elevato possibile è perché io non credo che nessuno possa sostenere che sia una buona cosa progettare qualsiasi struttura per il caso peggiore possibile ci hanno provato gli americani ad esempio c'è stato uno studio che magari qualcuno di voi ha seguito con attenzione per una per una discarica di scorie radiattive in Nevada Yaka Mountain dove c'è stato uno studio di quasi un milione di dollari per cercare di capire qual è il valore massimo possibile dal punto di vista fisico di scuotimento a un sito e sono venuti fuori dei valori di 12G 13G o cose di questo genere vogliamo davvero progettare per il caso peggiore possibile meglio di no quindi è un'altra cosa è vero che il metodo deterministico considera il caso peggiore per quanto riguarda la magnitudo anche se sfortunatamente era stato chiamato maximum credible earthquake fino a quando Clarence Allen in un famoso discorso ha detto che la maximum credible earthquake è uguale alla minimum incredible earthquake e quindi è stato cambiato ora viene chiamato maximum considered earthquake però noi progettiamo per questo valore di scuotimento che è stato deciso in maniera deterministica allora se noi applichiamo se vogliamo proseguire in questa direzione applichiamo esattamente alla lettera i dettami di questa procedura e vogliamo vedere cosa succede se la ripetiamo ad esempio per una griglia di siti in cui copriamo tutta la California 5 km e andiamo a vedere quali sono i livelli di scuotimento che questa procedura ottiene che è esattamente quello che è stato fatto in questo piccolo esercizio e poi per quei valori ad ogni sito quindi valore massimo secondo questa metodologia usiamo le metodologie probabilistiche calcoliamo qual è la frequenza annuale di superamento o periodo di ritorno otteniamo una cosa di questo tipo questo è stato fatto dagli USGS otteniamo un istogramma di questo tipo vediamo che per tutta la California questo istogramma abbiamo che per la maggior parte dei casi la frequenza o il periodo di ritorno è circa dei 200-500 anni che è più o meno nel target che ci si aspettava però chiaramente ci sono dei casi tipo 20.000 anni o 50 anni quindi la stessa metodologia applicata a tutti i siti uguale identica applicata a tutti i siti della California dà delle disparità dai 50 ai 20.000 anni quindi questo è un chiaro esempio che l'arbitrarietà delle scelte porta dei risultati assurdi non c'è eticamente nessun valore a chiedere alla gente di progettare in un posto per un periodo di ritorno di 50 anni o scuotamento per un periodo di ritorno di 50 anni in un altro posto di 20.000 quindi questo è chiaramente un problema che non si può trascurare e anche il fatto che appunto 50 anni chiaramente ci dà un esempio che la metodologia deterministica non è conservativa in molti casi l'approccio probabilistico invece ora non vado nei dettagli perché non ho tanto tempo considera sicuramente tutti i casi sia di terremoti sia di posizione del terremoto sia di scuotimento che sono stati considerati nel metodo deterministico ma le attacca una probabilità di occorrenza come abbiamo visto prima oltre a questi vengono considerati anche tutti gli altri eventi possibili tutte le distanze ma di tutti più piccoli eccetera eccetera valori di scuotimento più alti o più bassi di quello mediano o dell'84simo percentile e poi vengono ordinati e si sceglie e questo appunto non è una decisione scientifica ma è una decisione politica si sceglie qual è il livello di sicurezza che vogliamo usare per la progettazione dei nostri edifici piuttosto che dei nostri ospedali in questo caso ho preso 500 anni in periodo di ritorno 10% in 50 anni che per questo particolare caso era 0,6G quindi a questo punto uno ha tutta la situazione sotto controllo e può decidere qual è il livello di rischio se in questo caso ho apposta usato rischio invece di pericolo di pericosità ne parleremo dopo vedrete dopo tra un secondo il motivo che uno vuole accettare durante la progettazione fino adesso ho parlato di tutto quello che sta dietro alle mappe correnti di pericolosità perché qual è l'applicazione principale delle mappe di pericolosità è per la progettazione per dare un supporto alla progettazione qual è l'ipotesi fondamentale delle norme vigenti in tutto il mondo non soltanto in Italia se io progetto per il main shock per l'evento più grosso di una serie di eventi e quindi se la casa non viene giù per quell'evento gli aftershock o gli eventi innescati dal primo evento daranno un livello di scuotimento minore e se il livello di immagine di sicurezza insito nelle procedure è tale che io non avrò il collasso negli aftershock questa è l'ipotesi fondamentale ed è soltanto per queste ipotesi che quando si fanno le analisi di pericolosità gli aftershock i foreshock e tutti gli eventi innescati o con certi limiti vengono tolti dal catalogo quando si calcolano le frequenze di occorrenza basate sui terremoti storici si effetta questa operazione si chiama declustering e si tolgono apposta questi eventi che questa metodologia sicuramente ha un senso per l'applicazione normativa è perfettamente logica perché noi non possiamo rincorrere ogni terremoto se avviene un terremoto domani speriamo di no in una parte dell'Italia non possiamo nei prossimi sei mesi quando abbiamo una pericolosità più elevata chiedere ai progettisti di progettare per un livello più elevato di accelerazione e poi ogni sei mesi dargli un altro target per la progettazione si fanno queste mappe le si tengono magari le si maggiorano una volta ogni dieci anni gli americani lo fanno ogni sei e per la progettazione va bene ci sono tutta una serie di applicazioni ne menzionerò una sola qui quella appunto dei rischi catastrofali quindi di perdite economiche per cui questo tipo di mappe purtroppo non vanno bene non vanno bene per il semplice motivo che se si è interessate le perdite economiche si è interessate le perdite economiche prima del collasso collasso è una cosa ma anche per livelli di scuotimento molto bassi e quindi se uno usa queste metodologie per quell'applicazione ovviamente si sottostima la pericolosità e si sottostima il rischio questo è un caso classico che avete visto tutti il caso di Christchurch c'è stato un evento Darfield event questo qua 7.2 abbastanza distante da Christchurch e poi qualche mese dopo ce n'è stato uno a febbraio vicino a Christchurch poi ce n'è stato un altro qua a giugno che ha causato il nuovo altri danni in questo caso con questi tre eventi tutte le compagnie di assicurazione hanno pagato tre volte perché per le compagnie di assicurazione gli eventi sono definiti in questa maniera molto semplice se un evento succede dopo 72 oltre le 72 ore rispetto al primo evento è un altro evento e quindi le assicurazioni pagano di nuovo in questo caso hanno pagato tre volte nelle modelli catastrofali che usavano questi eventi erano stati tolti non potevano succedere e pertanto il rischio era sottostimato le prime due compagnie di assicurazione in Nuova Zelanda hanno dovuto essere salvate dallo Stato circa un miliardo di dollari neozelandesi perché altrimenti andavano a bagno hanno pagato tre volte invece di uno quindi sicuramente questi eventi innescati e anche gli aftershock non possono per questo tipo di applicazioni essere tolti cosa fanno le compagnie di assicurazione? usano quello che Mauro ha chiamato prima coefficiente di ignoranza moltiplicano i valori che gli vengono dati da questi modelli che tolgono questi eventi per un certo fattore quanto sia questo fattore è una cosa confidenziale che vale da una compagnia a un'altra però è un fattore abbastanza grande e loro cercano di risolvere con l'ascia un problema che noi potremmo risolvere molto meglio se ci occupassimo di queste cose ovviamente non sono io il primo a dirlo è un problema non semplice però vale la pena di usare un po' di sforzo lo stesso progetto di USGS USERF3 che è quello che ho menzionato prima sta cercando di fare esattamente questo i risultati non sono ancora disponibili di questa seconda parte del progetto comunque loro stanno usando metodi abbastanza complessi per evidenziare aftershock e foreshocks eventi innescati e cose di questo tipo e quindi anche casi tipo questo dove nel 1992 nel sud della California c'è stato un evento di Joshua Tree nell'aprile poi a giugno alle 4 del pomeriggio è avvenuto questo evento che ha spaccato tre faglie lenders che avete visto prima quattro ore dopo c'è stato un evento qua a Big Bear Big Bear Fault che ha qualche decina di chilometri di distanza e poi nove anni dopo c'è stato un evento sull'Hector Mine Fault che era stata addormente per tanto tempo quindi chiaramente qui non si può non capire che c'è una memoria sia temporale che spaziale che va modellata vedremo cosa gli americani riusciranno a combinare quando i risultati saranno disponibili ora volevo dedicare gli ultimi 5 minuti della mia presentazione a un'altra applicazione fino adesso abbiamo parlato di pericolosità adesso volevo parlare di rischio però sempre connesso all'uso di curve di pericolosità come abbiamo detto prima la progettazione avviene per superamento di certi livelli di scuotimento al sito ad esempio 10% in 50 anni quindi da un punto di vista etico ad esempio se io dovessi decidere di fare la progettazione di due edifici identici in due posti diversi che hanno una caratterizzazione di pericolosità simile a questa dove in questa zona della curva di pericolosità abbiamo praticamente lo stesso frequenza di superamento però il resto della curva è differente se io progettassi per entrambi i siti due edifici identici in questa zona io progetterei esattamente per lo stesso livello di scuotimento e quindi mi aspetterei almeno dal punto di vista logico di avere la stessa probabilità di collasso dell'edificio e sarebbe eticamente corretto purtroppo non è vero non è vero perché per un motivo abbastanza intuitivamente semplice non è vero perché c'è un'incertezza abbastanza grossa anzi molto grossa nella capacità di un edificio a resistere allo scuotimento quindi sicuramente c'è una probabilità abbastanza elevata che l'edificio collassi prima per un livello di scuotimento inferiore a quello di collasso e c'è una probabilità elevata che l'edificio non collassi per livelli di scuotimento superiori a quelle di progettazione pertanto tutta la curva di probabilità la frequenza di superamento di tutta la curva di pericolosità non soltanto di questo punto ha un impatto sulla probabilità di collasso dal punto di vista probabilistico gli ingegneri che ovviamente riconoscono questo problema da decenni esprimono questa loro incertezza sulla probabilità di collassare la struttura con quella che viene chiamata curva di fragilità che non state tirate fuori all'inizio per fare analisi di probabilistiche per centrali nucleari quindi sull'asse delle X si ha una misura di intensità dello scuotimento sull'asse delle Y non si ha la probabilità che se quell'edificio è scosso da quel livello di P-ground acceleration ad esempio o di accelerazione spettrale quella è la probabilità che casche quindi il valore atteso 0,5 in questo caso è in questa zona qua i codici americani assumono e gli italiani siccome abbiamo copiato da loro probabilmente la stessa cosa che per un livello di scuotimento di 10% in 50 anni se l'edificio dovesse avere esperienza di quel particolare scuotimento si accetta soltanto il 10% di probabilità che collasse quindi il 90% sta in piedi e il 10% collasse queste sono le assunzioni ma come vedete qua chiaramente per tutti per livelli accelerativi molto diversi da quello di progettazione c'è una probabilità che l'edificio collasse quindi cosa possiamo fare possiamo fare usare una procedura iterativa che scelga un livello di progettazione tale che quando lo si integra con tutta la curva di pericolosità la probabilità di collasso sia identica prima abbiamo visto che la probabilità di collasso di quei due edifici identici era diversa adesso la vogliamo identica quindi dobbiamo muovere il livello di scuotimento per cui facciamo la progettazione in modo da garantire almeno secondo questa procedura che la probabilità di collasso sia identica in questo caso io ho messo qua probabilità di collasso in 50 anni uguale all'1% come target quindi questa procedura iterativa sceglie un valore di scuotimento che qui è chiamato alla inglese risk targeted ground motion e si genera una curva di fragilità che assume soltanto il 10% di probabilità di collasso per quel livello la si integra con la curva di pericolosità e si calcola la probabilità di collasso in 50 anni se è uguale all'1% mi fermo se non è uguale ritorno e continuo a iterare fino a quando ottengo quello che voglio questo è esemplificato in questo esempio dove io ho le due curve di prima di pericolosità ho qui le curve di fragilità che sono scusate che corrispondono al livello iniziale che io scelgo in questa procedura iterativa e calcolo la probabilità di collasso che in questo caso è 1.2% quindi è più grande dell'obiettivo finale dell'1% nel caso rosso e nel caso blu invece soltanto 0,7% questo significa che quindi siccome la probabilità è 1.2% quindi è più alta nel caso rosso vuol dire che io sto progettando per un livello accelerativo troppo basso e viceversa nel caso blu sto progettando per un livello accelerativo troppo alto itero cambio e con il prossimo tentativo arrivo a 1.50G 0.9G ora le probabilità sono 0.8% e 1.1% continuo di nuovo fino al terzo iterativo terzo step ottengo quello che voglio dell'1% in ogni caso questi valori accelerativi non sono quelli che al sito hanno la probabilità di superamento del 10% in 50 anni sono diversi sono simili ma sono diversi e sono diversi in modo che quando integrati con tutta la curva di pericolosità diano il target dell'1% di probabilità di collasso quindi cosa posso fare io? potrei in teoria fare questo esercizio per tutta una griglia di siti che copre l'Italia per un tipo di tripologia di edifici ad esempio telai in cemento armato per cui calcolo la mia curva di fragilità ripeto questo esercizio e mi calcolo per tutti i siti qual è il valore di progettazione che se io mi attengo a quel valore ottengo la priorità di collasso uniforme e poi posso produrre delle mappe come questa di questo che ho chiamato che è stato chiamato coefficiente di rischio che non è altro che il valore accelerativo che è stato trovato da questa metodologia diviso per il valore che è nelle mappe e questo coefficiente di rischio è maggiore di 1 o minore di 1 dipendentemente da com'è la curva di pericolosità nei diversi posti questo potrebbe essere un metodo per cambiare il paradigma corrente della progettazione per edifici futuri in modo che sia più eticamente corretto quindi muoversi dal paradigma consueto che è quello del superamento del scuotimento al suolo fino a parlare esplicitamente di rischio e quell'1% in 50 anni o qualsiasi altro valore è un valore che deve essere non è un valore che gli ingegneri possono decidere ma deve venire dai politici tutto questo macchinario è stato già implementato negli Stati Uniti almeno in parte ed è arrivato fino al documento delle asce non è ancora nell'International Building Code ma ci arriverà molto probabilmente nei prossimi mesi quest'ultima slide concludo io credo che sia un periodo che offre molte opportunità per migliorare le mappe di pericolosità a lungo termine che sono quelle che sono esistenti e sviluppate gli NGV acquisendo nuovi dati usando nuove leggi predictive per il ground motion e queste mappe vanno perfettamente bene per applicazioni di tipo normativo però c'è anche l'opportunità di andare oltre queste mappe e magari includere il suolo e includere anche la possibilità di modellare gli eventi che non sono che sono probabilisticamente dipendenti dal main shock e questo sarebbe molto ben accetto da tutto un altro mondo che prende decisioni su miliardi di dollari ogni anno basandosi su questi dati che per ora non hanno come ho detto prima e per ultimo magari cambiare anche il paradigma di progettazione di edifici futuri passando da un concetto di pericolosità a un concetto di rischio e spero che ci sia la volontà e il budget e le risorse per fare almeno alcune di queste cose nei prossimi anni grazie con questo intervento si chiudono le attività della mattina di oggi quindi adesso possiamo accedere alla zona pranzo naturalmente riservata agli iscritti al congresso grazie a tutti 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 grazie a tutti